Ancora una donna ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo il terzo incidente in due giorni nel territorio Ravennate. Si tratta di una 44enne di origine moldava e falciata da un'auto mentre si stava recando in bicicletta al lavoro in un'abitazione. La donna è stata investita intorno alle 16 da una pesce 208 guidata da un 55enne. L'incidente è venuto in via tagliata a piangipane. La ricostruzione di quanto è accaduto al baio della polizia locale di Ravenna ha chiamato a stabilire le rispettive responsabilità. La donna rimasta sempre cosciente è stata soccorsa dal personale del 118 arrivato sul luogo dell'incidente con l'ambulanza automedica e l'elicottero del soccorso alpino. Come spesso avviene in questi giorni infatti l'elimetica di Romagna Soccorso di Stanza Ravenna era già impegnata in altre operazioni a causa dell'emergenza sanitaria. Dopo aver ricevuto le prime cure la donna è stata quindi trasportata con l'elicottero al centro traumatologico dell'ospedale Bufalini di Cesena.